gentili telespettatori buona giornata molti si saranno chiesti ma capisco che ognuno ha le sue idee c'è chi vota per tizio caio chi vota anche per sempronio ma come si fa a insistere per votare un partito dove va via un segretario dicendo via no 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 sono tutte correnti e il partito è una scatola vuota tutte correnti pensano solo agli stipendi e arriva un segretario della francia letta che in maniera ancora parzialmente inspiegabile tira fuori 25 priorità illogiche in questo momento si dà l'etichetta dell'anti salvini quando per 26 anni il suo partito ha fatto l'anti berlusconi non ha mai funzionato berlusconi ha governato per 20 anni e ci si chiede come è possibile che ci siano ancora elettori che votino per un partito del genere del genere ma c'è comunque un 20 per cento un italiano su cinque che vota a prescindere per il pd quindi facciamo una sorta di ritratto di quelli a cui va bene sempre tutto e comunque quelli che votano a prescindere il pd perché il pd e la casa dell'uomo che pensa in modo diciamo da un modo non dico sinistro che può sembrare che pensa in un certo modo vede la sua casa nel pd di letta o meglio dice io voto per il pd senza senza voler guardare bene che cosa c'è dentro questo pd che non c'è nulla ma molti dicono ma quella è la mia casa io che cosa devo votare voto per renzi no voto per calenda è un voto perso per renzi un voto per scusa voto per speranza che faccio devo votare per forza il pd pertanto il pd è la casa dell'uomo e della donna di sinistra indipendentemente che la casa sia diroccata che ci sia non ci siano più i vetri ci siano solo correnti è un letta che corre da un piano all'altro dicendo eccomi qua ho una nuova priorità no come in un film quasi dell'orrore no vi immaginate questa casa diroccata scura con le ragnatele senza tutti i vetri rotti e con un letta che corre da un piano all'altro ed entra in queste stanze abbandonate sono qua ho una nuova priorità e in cui diciamo che abbastanza c'è un motivo per cui il pd non si schioda dal 20 per cento dei consensi più o meno non è propriamente un elettorato ma è un pezzo di stato si tratta dice qualcuno di dipendenti pubblici di pensionati oltre di una certa aliquota di borghesia fatta di beneducati professionisti cui va bene un po tutto al governo fuori all'opposizione in maggioranza con il fratello di montalbano o come che ci sia il fratello di montalbano montalbano sono il fratello di montalbano è l'uomo che ride nicola zingaretti che nel pd stanno rimpiangendoci riportateci zingaretti fatelo tornare mandate via letta pertanto c'è un blocco un blocco di un nocciolo duro di persone che continua a votare pd e lo continuerà a votare il pd sotto una certa cifra non andrà mai e perché è un gruppo enorme di persone che sono state plasmate negli anni da un'ideologia di sinistra che era imperante in italia pertanto formano questa massa di votanti che non si sgretola ad esempio anche renzi ha il suo nocciolo duro ma è il suo nocciolo duro è un 1,5 per cento avete visto qual è il nocciolo duro di fra di forza italia il nocciolo duro di forza italia è un 5 6 per cento mentre nel pd parliamo di un gruppo molto più grande di persone di uomini e donne che continueranno a votare il pd a prescindere a prescindere che ci sia letta il fratello di montalbano che ci sia zio paperone che arrivi non lo so che arrivi conte che non ci siano programmi che ci siano che siano al governo all'opposizione qualunque cosa l'elettore interpellato lei per chi vota pd perché perché sì sì e basta no abbiamo avevamo il movimento 5 stelle che era quello dei no no a prescindere perché no ma spiegamelo no e basta c'è perché voti pd perché sì mentre nel pd abbiamo il sì a prescindere nel movimento 5 stelle no a prescindere il pd sì a prescindere perché voti perché sì sì e basta non facciamo troppe domande il pd il pd no e così viene poi fuori la canzone meno male che letta c'è ecco questa è la realtà c'è comunque quel vago complesso conservatore da un con un'eterna patina di convenzionalità banalista c'è un po un po tanto di banalità in questo grande partito perché è un grande partito su questo non possiamo non possiamo dire nulla è un partito politico che però non ha niente di partito politico solo la struttura articolata nel territorio come diceva zingaretti quando sono arrivato nel pd e era una sorta di partito ramificato fortemente ramificato in tutta italia no immaginate le radici che che vanno fino nella montagna più sperduta dove in questa enorme ragnatela ragnatela di radici c'è ci sono tutti questi capetti questi signorotti vai nel nel posto x c'è quel signorotto del pd che ha tutto che muove tutti i suoi fili le conoscenze ci ha mani in pasta un po dappertutto e zingaretti dice ma io come faccio adesso dovrei cancellare tutta questa ragnatela tutta questa radicazione ma non è riuscito a farlo perché come fai come fai a tirar via una pianta che è così radicata nel profondo è un po come togliere una palmetta avete mai provato io pianto quando mangio i datteri a natale pianto il seme e nel giardino qua ho già 45 palmette che sono venute dal seme che io ho messo dopo poco quando già la piantina è così provate a tirar via una palma è impossibile perché le radici vanno nel profondo è fatto apposta per cercare l'acqua pertanto il pd è uguale il pd non è una palmetta che non riesce a sradicarla è un albero gigante che sradicarlo per togliere tutti questi capetti è impossibile impossibile e questi capetti fanno sì che quel nocciolo duro non se ne vada quel 20 per cento che continua ad esserci io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata